Buonasera a tutti e benvenuti a questo primo evento tutto bolognese del Tableau User Group. Buonasera a tutti, anzi ciao a tutti, siamo un po' così poco formali almeno in uno User Group. Siamo lieti comunque di avervi qui oggi con questo Tableau User Group bolognese che comunque vuole ricordare un po' tutta l'Emilia Romagna. Siamo io e Fabio, io da Vedi Liberti e Fabio Fantoni con me, che siamo i due leader che abbiamo creduto nel che sia, che era importante creare questa community anche a Bologna e dintorni. Cominciamo Fabio. Sì, vedo che c'era una mano alzata, non so se Davide la riesce a vedere, io sono in modalità proiezione. No, c'è gente che ci ha scritto su una chat, ciao Michele. Ah ok, avevo visto un raise hand, quindi a posto. Beh, direi che bene o male Davide ha già anticipato un po' l'idea di qual è stata la genesi dello User Group. Fondamentalmente, benché possiate vedere che lavoriamo per due aziende diverse, sostanzialmente io e Davide in passato siamo anche stati colleghi e fortunatamente diciamo siamo tuttora amici e tutti e due appassionati di Tableau, lavorandoci anche quotidianamente, quindi mi preme far notare che non è che ci siano tante divisioni da nessun punto di vista. Lo spirito dello User Group credo sia proprio questo, c'è anche un po' la sua forza come la community di Tableau, per chi già la conosce, per chi non la conosce vi invitiamo a farne parte, magari partendo proprio dallo User Group. Quindi mi sento di dire a nome di tutti e due che non vorremmo dare un taglio specifico a questi incontri, perché appunto pensiamo di volerlo incentrare sulle persone, quindi qualunque idea, specialmente per quelle che speriamo saranno le prossime puntate, è più che bene accetta, quindi anche se qualcuno vuole condividerci dei contenuti, magari vuole parlare in un momento propriamente dedicato, tutte le idee sono assolutamente benvenute. Io direi Davide... Scusami, quello che devo fare è creare un posto, un luogo veramente aperto dove comunque tutti ci possiamo parlare, possiamo aiutarci l'un con l'altro, magari scopro come si fa una cosa, la condivido con tutta la community, un luogo aperto a chiunque, poi il fatto che è virtuale comunque ci aiuta anche a essere un po' più, non a limitarci solo a Bologna e le mie Romagne, ma a guardare, avere un raggio anche un po' più ampio. Però veramente, con uno spirito veramente di massima collaborazione, questo è quello che noi crediamo sia importante per una community. Direi che siamo abbondantemente nei tempi, anche perché abbiamo cominciato da pochissimo, quindi partirei con le nostre presentazioni, perché dopo ci piacerebbe fare un breve scambio, magari dove ognuno dei partecipanti si racconta un po', magari in un minuto ci dice intanto come si chiama e che rapporto ha contablo, qualunque esso sia, anche curiosità banalmente, perché poi in definitiva credo che sia io che Davide per motivi diversi abbiamo cominciato un po' come curiosità e poi dopo è diventata anche un lavoro, ma siamo rimasti appassionati, quindi è proprio per creare un po' di una sorta di community bolognese o allargata e poi insomma avremo modo di conoscerci meglio. Io direi che parto. Chi sono? Diciamo che tendenzialmente sono dottor Fantoni e mister Fabio, nel senso che quotidianamente sono un consulente di Bitbang e nello specifico mi occupo di Modern BI e Analytics e ho un team appunto che si occupa di questa tematica. Lavoro con diversi tool, non solo Tableau, però Tableau, essendo un appassionato, per me ha un posto speciale nel cuore e direi che gran parte delle attività che faccio hanno a che vedere con i dati, hanno a che vedere con i dati, con la loro visualizzazione e si spera il metodo più efficace per poterli comunicare. Ma d'altra parte, un po' come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Mi occupo anche di altro, proprio perché sono un appassionato nel tempo libero, diciamo così, definizione data journalist, possiamo dirlo. Collaboro con il Sole 24 Ore nella fattispecie con il blog Infodata che si occupa di creare dei contenuti, degli articoli, che abbiano un'evidenza numerica e che io realizzo appunto con Tableau. Questo è uno dei due canali con i quali mi faccio conoscere nella community e ho citato anche la giornata tipo, non so se qualcuno la conosce, è la pagina di Pallacanestro più nota in Italia e mi ha dato modo di fare diverse cose, visto che sono un grandissimo appassionato di Pallacanestro. Quindi attività lavorativa normale, data giornalismo, declinato in cose un po' più serie e cose un po' più scanzonate come possono essere lo sport e la Pallacanestro sono quello che mi contraddistingue. Quando con Davide ci siamo detti come ci presentiamo, ho pensato che, visto che è un Tableau User Group e che vi ho anticipato, lavoro molto con Tableau, specialmente per la parte public, per condividere quello che faccio, ho pensato che un buon metodo potesse essere far parlare il mio profilo, profilo che non guardavo da un po' di tempo, però credo ci siano delle informazioni che parlano di me. Molto velocemente, sono un grande amante dei dati da quando sono bambino, sono diventato un entusiasta di Tableau quando l'ho conosciuto, quasi per caso in realtà, e sono un grande appassionato di MBA. Questa cosa in realtà è stato il motore trainante della mia passione per Tableau che mi ha fatto diventare appunto appassionato, mi ha fatto spendere veramente un sacco di tempo, più che altro di notte, perché come vi dicevo durante il giorno devo fare altro, ahimè, ma mi piace. E niente, quindi lavoro parecchio di dopo cena, mettiamola così, senza scomodare degli orari improbabili. Un numero che ogni tanto mi dimentico, ho creato 493 dashboard, ci sono alcune cose passabili, alcune cose carine, molti obrobri, però credo che siano tutte idee, nel senso che credo che da ogni dashboard, a meno che non sia veramente buttata lì senza un minimo di criterio, ma dubito, ci dovrebbe sempre essere un piccolo takeaway, anche per dire non rifare questa cosa, perché ho capito che non funziona. Quindi io vi invito veramente, se riuscite, a provare, 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 perché provando, facendo, si migliora così come credo in tutte le cose. Su Tableau vedo che questo è stato per me un grande sprono. Un'altra questione era legata al fatto che, producendo dei contenuti, sentivo il bisogno, credo anche sul suggerimento di un collega che probabilmente oggi sta partecipando, mi aveva consigliato di aprire un blog per condividere al di là della Community Tableau. È una cosa che miseramente ho abbandonato, proprio perché sono nate le altre collaborazioni, quindi è un po' una lacrimuccia che scende, ma il takeaway di questo è stato che mi ha spinto a confrontarmi con gli altri, quindi non fare le cose solamente per me, ma anche per il resto delle persone che potevano essere interessate. Parlando di persone, per quanto riguarda LinkedIn e Twitter, diciamo sono due facce della stessa medaglia, nel senso che le connessioni con le persone credo che siano una delle colonne fondanti di Tableau. Io ho avuto modo di conoscere, grazie a Tableau, delle persone che abitano all'estero, una dovrebbe essere anche partecipare qui al nostro Tableau User Group, quindi diciamo che è un modo per rimanere in contatto e di conoscere tante persone. Se avrete modo di partecipare a delle Tableau Conference potrete, diciamo, verificare con mano quello che vi sto dicendo. Quindi uno stimolo è cercate di creare una rete, qualunque essa sia a scopo lavorativo, personale, ma mi raccomando condividete i contenuti e raggiungete persone. Raggiungete persone che il Tableau Public nel profilo vi suggerisce, non è tanto l'attenzione sui numeri, quanto sul fatto che c'è qualcuno che vi può seguire e c'è qualcuno che voi potete seguire. Io qua seguo solamente nove persone, ma perché sono veramente pigro e mi dimentico di selezionare le persone da seguire. Quando invece su Twitter seguo qualcosa come 250 profili di Tableau, cioè di persone che hanno dei profili di Tableau. Quindi se può essere un obiettivo ispirarvi a qualcuno, è anche vero che magari una cosa che avete fatto può ispirare qualcun altro. Quindi insisto sempre sul discorso di community, che poi è quello che ci sta riunendo oggi in questo user group di Bologna. Siccome ho dato un'occhiata al mio profilo di Tableau, che di solito guardo solo nella parte alta, cioè le ultime cose che ho fatto, ho detto con Davide, ma non mi ricordo neanche qual è la prima dashboard che ho fatto. E neanche a farla apposta, la prima dashboard che feci all'epoca era su Bologna e oggi abbiamo uno user group di Bologna, quindi probabilmente sono coincidenze astrali. E appunto ho notato che parlavo di Bologna, ho notato che era il lontano 2016, quindi metà 2016, quasi quattro anni dopo. E all'epoca mi sembrava la dashboard più bella del mondo, aveva uno sfondo nero che non è bianco, quindi un sacco di personalità, i colori rosso-blu che sono quelli di Bologna, però ecco la riguardo un po' con tenerezza, perché nell'arco del tempo insomma le percezioni cambiano. E parlando appunto di Tableau, abbiamo fatto una specie di ragionamento trittico del tipo Bologna, 2016 Tableau, e per magia solamente quattro anni dopo siamo arrivati appunto ad oggi. Al nostro Tableau user group, che come anticipava Davide, è nato principalmente perché, poi ve lo spiegherà molto meglio Davide di me, lo user group è un modo per condividere e specialmente per noi due che siamo comunque rimasti amici, abbiamo la passione per Tableau, ci sembrava un bel modo per provare ad allargare questa community anche a tutti voi e a quelli che si vorranno aggiungere in seguito. Quindi io Davide mi zittirei e ti lascerei anche lo schermo, che dici? Grazie. Allora, dammi un secondo, non mi dovreste più vedere in screen e mi zittisco pure. Ci sono? Perfetto, quindi ora tocca a questa, anche a me, a presentarmi. Chi sono? In realtà sono Davide Liberti, lavoro per i Comedio ormai da due anni, sono responsabile di tutta l'area romana e team leader del team di Business Intelligence a Roma. Ho con me un piccolo team tra junior e senior, junior, mi occupo anche di tutto il loro piano di crescita. Anche io vi racconto un po' il mio tabbo pubic. In realtà sono romano, nato e cresciuto a Roma e attualmente vivo a Roma. Quindi che cosa c'entra con Bologna? In realtà per diverse ragioni. Come ha detto Fabio, sono stato un suo collega e ho visto tre anni a Bologna che per me lavorativamente parlando è stata un'esperienza molto importante. Nonché, Fabio, non me ne volere, ma la ragione principale per cui sono molto legato alla città di Bologna è una ragione di cuore. Ho sposato una bolognese doc. No, mi dispiace Fabio. Anche io il mio profilo public non è aggiornato quanto Fabio perché magari la sera mi faccio un sonnellino, stanco dal lavoro oppure mi guardo un po' di tv o cose del genere, ascolto un po' di musica. Però anche io il profilo public dove ogni tanto mi diletto quando trovo dei dati che per me sono molto interessanti, mi diletto a fare delle dashboard e a utilizzare un po' di nuove funzionalità. Diciamo che il tablo public lo uso principalmente per prendere l'ispirazione nel mio lavoro. Per me è un luogo fondamentale, è un luogo che consiglio con tutte le persone con cui collaboro, che siano clienti, colleghi, persone che conosco agli eventi. Do una forte spinta verso il tablo public perché trovi veramente ispirazione per qualsiasi cosa e trovi lo spunto per poter abbellire il tuo lavoro quotidianamente. Sono leader del tablo user group di Roma, insieme a Pietro Gentini che è già qui con noi. Il tablo user group di Roma è voluto fortemente da un po' da sia Zia di Pietro che da tutti i nostri clienti romani. Vi trovate su LinkedIn dove sostanzialmente sono attivo principalmente con le attività dei tug e quando scrivo degli articoli nel blog aziendale oppure quando perde le attività che riguardano i vari tug, che sia Roma o Bologna. Posso dire che la mia seconda visa pubblicata sul tablo public era su Roma del 2017 e comunque riguarda uno dei principali problemi. abbiamo perso Davide nel mentre si ricollega, visto che so di cosa stava parlando, diciamo che è la sua seconda dashboard. Comunque esattamente come la mia prima, neanche a farla apposta è qualcosa legato alla sua città, quindi a Roma. Quando abbiamo organizzato lo user group ci siamo accorti che effettivamente eravamo legati anche da questa coincidenza. Quindi adesso vediamo se Davide si riesce a ricollegare. Però direi che nel mentre potremmo approfittare se riesco e se sono nella condizione di mettervi come presentatori di voi stessi, perché la parte subito dopo questa sarebbe stata quella in cui vi chiediamo di raccontarci un po' chi siete, banalmente in un paio di minuti o anche meno. Ecco, veramente non c'è nessuna presentazione giusta, nessuna presentazione sbagliata, esperienze pregresse non fanno nessuna differenza. Se conoscete Tableau bene, se non lo conoscete, siete dei curiosi, bene lo stesso, anzi forse potranno nascere dei punti di vista differenti. Quindi in attesa che arrivi Davide, io in rigorosissimo ordine alfabetico vi permetterò di parlare partendo da una persona nota. Amedeo, dimmi se riesci a parlare. Pronto, mi senti? Sì, ciao Amedeo, benvenuto. Grazie. Allora, velocissimo, io sono Amedeo Maggini, lavoro con Fabio in Bitbang, per questo sono una persona nota, a lui nota, e personalmente con Tableau non ho esperienza, sono qui perché sono curioso di conoscerla. Beh, allora sei nel posto giusto, direi. Grazie. Benvenutissimo. Allora, Amedeo, non avertene male, ma ti muto. Ok. Poi passerei la parola a Cinzia. Vediamo se... Cinzia d'Orazio. Vedo i nomi solamente troncati, quindi... Cinzia, ci sei? Vediamo se... Beh, c'è anche Davide? Allora, datemi un secondo che devo rendere... Dovrebbe essere rientrato Davide, se Cinzia non ci senti o non riesce a parlare, proviamo a passare oltre al limite, ti riprendiamo subito dopo. Davide, ci sei? Non ti sentiamo? Parla più forte, vai, unmutati. No, ci sono, scusate. Ok, avevo cominciato a farle il giro di presentazioni, quindi... Vai, benissimo. Vai, finisci pure, avevo lievemente anticipato la tua dashboard, ma vai pure. Ok. Scusate, riprendo, ma riprendo veramente velocemente. Come vi dicevo, sono leader insieme al taboo user group di Roma, ormai ha un anno di vita e mi ha fatto diversi eventi di cui siamo molto orgogliosi. Il taboo user group di Roma, il principale scopo è quello di condivisione del know-how, in maniera molto trasparente. Quindi, a parte il primo evento, tutti gli eventi sono stati direttamente gli utenti che mi hanno scritto, che li ho cercati e che hanno direttamente portato il loro contributo presentando un argomento. Molto orgogliosa dell'ultimo evento di qualche settimana fa, qualcuno di voi ha già so che ha partecipato, abbiamo ospitato una co-leader della community di Art Ladies e con noi c'era un'altra ragazza, quindi un evento tutta femminile, dove abbiamo parlato di come il taboo viene utilizzato nel mondo della mobilità, soprattutto nella città di Roma ed è stato molto interessante. Detto questo, Fabio, andiamo avanti, scusami, perché il taboo user group di Bologna? In realtà, un giorno, un po', vista la mia esperienza del taboo user group di Roma, ho chiamato Fabio tra le volte che ci siamo sentiti, ho detto, Fabio, ma che ne dici? Proviamo anche a Bologna, alla fine io un po' di conoscenza le avevo, Fabio comunque è anche stabilito a Bologna con la sua azienda. Abbiamo entrambi, frattamente appassionati di taboo, ci siamo spesso scambiati feedback e consigli sui lavori fatti, sia quando eravamo colleghi che oggi che non siamo colleghi. E quindi abbiamo pensato comunque di cercare di creare una community intorno all'editoria un tortellino. Non so, Fabio, se tu vuoi aggiungere qualcosa. No, no, niente, tanto avevo un po' spoilerato la tua dashboard, che era praticamente basata sulla città in cui abiti, che era un altro punto di contatto. Quindi direi che al netto di questo proseguirei con il, con, con cui appunto dove ci potete trovare, sì? Ci trovate sicuramente su LinkedIn, c'è la community, ci trovate con Bologna Table User Group oppure l'hashtag Bologna Tug, oppure siamo nella community di The Blo, trovate il link che è molto facile di riportato, dove lì troverete l'elenco di tutti gli eventi prossimi e futuri. Ovviamente i prossimi non abbiamo pianificati, ma pianificheremo. E lì in realtà ci aspettiamo anche un vostro contributo. Quindi saremo molto lieti di ingaggiarvi nel presentare argomenti o comunque di fare un qualcosa tutti insieme. Beh, direi che a questo punto, visto che avevamo cominciato a conoscerci, se vuoi unmutarli, Davide, uno dopo l'altro, ero partito da Medeo, tra i partecipanti, che si è già presentato. Avevo provato a sentire Cinzia, però evidentemente, o forse non riesce, passerei in ordine. Quindi vedo un Andrea, partirei da lui. Allora tu, Fabio, che tu sei l'asta adesso. Allora lo faccio, all'autotalk. Ciao Andrea, non so se riesci a parlare, se ci vuoi raccontare qualcosa di te. Diversamente, passiamo alla persona successiva. Allora, vediamo un po'. Allora facciamo che anche Andrea è momentaneamente... Proviamo a... Allora passiamo a Cecilia. Vediamo. Credo che una volta che Fabio vi autorizza a parlare, dovrete anche voi togliere il mutuo. Lo dovreste trovare nella parte bassa del pannello, in basso a sinistra. Se per caso avete delle difficoltà di qualche tipo, alzate la mano tranquillamente, magari scrivete in chat, vediamo di... Allora, proviamo ad andare a Dario. Vediamo se Dario riesce a... Pronto, mi sentite? Ah, questo Dario. Ecco, è una persona nota. Ciao a tutti. Infatti io anche lavoro con Fabio in Bitbang, e così sono entrato a conoscenza con Tableau, anche se non l'ho mai usato, e mi sono iscritto per curiosità, onestamente, per entrare a conoscenza della piattaforma del tool. Perfetto, quindi un altro curioso, benissimo. Ci piacciono i curiosi. Io direi che passiamo a Elisa. Vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a sentire Elisa. Tanto, eccoci. Si salve. Un minuto proprio di presentazione. Io utilizzo Tableau nell'ambito dell'analisi dati per quanto riguarda il customer service. E quindi sì, vabbè, ero curiosa per capire, perché secondo la mia idea, insomma, non lo utilizzo, diciamo, con tutte le sue potenzialità, quindi era un modo per conoscere nuove funzionalità, nuove idee, insomma, per creare delle dashboard magari più efficaci, migliori, insomma, per migliorarmi. Ecco questo. Ottimo, specialmente dalle prossime puntate. Immagino che andremo, al di là di questa, che è un po' conoscitiva, anche un po' più sul tecnico, tra virgolette, vedendo cose molto più pratiche dopo avervi conosciuto. Quindi, assolutamente, grazie per il contributo. Poi direi che vediamo un po'. Eugenio, vediamo se riusciamo. Eccolo. Ciao, benvenuto. Anch'io per curiosità, perché per lavoro ho a che fare con dati relativi alla mobilità, quindi è curiosità personale e possibile lavorativa, insomma. Beh, ottimo. Così fai, prendi due piccioni con una fava, magari, chi lo sa. Bene. Ok, grazie. Benvenuto. Vediamo un po'. Fabrizio. Ciao, mi sentite? Sì. Ok. Ciao. Sono Fabrizio Dellatti, lavoro al Comune di Bologna presso l'Ufficio di Statistica, uso Tableau dal 2016. Mi fa molto piacere, diciamo, che sia nato il TUG a Bologna, perché ho avuto occasione di partecipare a un evento a Milano, per esempio, un altro a Roma, mi pare. E avevo, insomma, attendevo che venisse a creare anche il TUG bolognese per poter, insomma, scambiare anche con gli utenti locali delle, insomma, opinioni, delle cose sul Tableau. spero che prima o poi ci si ripoderà a vedere di nuovo dal vivo come quelli a cui ho partecipato ai tempi pre-Covid, in cui si, insomma, vedendosi dal vivo è più bello. Ci l'auguriamo tutti, così abbiamo una scusa per far venire su anche Davide, che così non si può negare. Va bene, grazie mille. Fabio, scusami, ti interrompo un atto perché ha scritto Cecilia, dice che ha il microfono, che non le funziona, però lei, evidentemente, ci scrive che usa Tableau per invalsi, quindi è qui sostanzialmente per aiutarla a rendere un po' più accantivante i suoi lavori. Ok, quindi diciamo una parte anche se vogliamo estetica, quella che secondo me potremmo vedere insomma come spunti. Anche queste presentazioni ci servono per provare a costruire insieme le scalette delle prossime lezioni. Quindi benissimo, grazie mille. Ci aspettiamo soprattutto un vostro contributo. Poi ve lo diremo anche dopo, ma con Fabio dopo questo evento vi pingheremo il più possibile sulla community che abbiamo su LinkedIn. Aspettiamo i vostri contributi per cercare di lavorare già al prossimo evento. E quindi dopo Fabrizio direi Federica. Vediamo se riesce. Eccola. Ci sono? Ciao. Sì, assolutamente. Ciao, benvenuta. Ciao, sono Federica. Sono a Bologna e lavoro per Uniposai Assicurazioni. Abbiamo iniziato ad usare Tableau, quindi diciamo che mi sono già scontrata con delle diverse situazioni in cui io vorrei fare cose ma non sono ancora in grado di farle. Per cui, diciamo, sono più che curiosa di partecipare per poter, diciamo, imparare nuove cose su Tableau. Bene. Bene, insomma, sei all'inizio, quindi entusiasmo a palla, direi, come si dice qua a Bologna. o forse frustrazione. Io sono più di Ravenna, sono più di Ravenna, però vabbè. Ma non facciamo discriminazioni, c'è anche Davide, quindi non ti preoccupare, accettiamo gente da tutte le parti del mondo perché abbiamo anche ospiti. Vabbè, sono in Bucata. Però vivo a Bologna, dai, d'altra volta. Allora sei tra quelli giusti, ovviamente scherzo. Va bene, grazie mille. Ok, grazie a voi. E dunque, dopo Federica, direi Francesco? Sì, vediamo se... Sì, ciao, mi sentite? Sì, ciao, benvenuto. Ciao, allora, sono Francesco, sono di Roma e lavoro da due mesi più o meno a questa parte su Tableau. Ho sempre sviluppato in realtà con un altro, con ClickSense, ma devo dire che ho trovato molto più accattivante Tableau e ci sto praticamente appassionando e poi cercare di scoprire meglio questo mondo, insomma, che mi sembra che... C'è... C'è un... C'è un... Francesco. Sì, mi si è mutato in macchina. No, volevo dire che comunque Tableau mi ha colpito fin da subito e quindi mi piacerebbe conoscerlo meglio e quindi sviluppare più dashboard e ovviamente condividere quando insomma spero di essere in grado di fare dashboard accattivanti è sempre migliore insomma. Guarda, consiglio personale visto che hai parlato appunto di condivisione quindi pollice su secondo me giustamente tu ti autovaluterai come giusto che sia perché ognuno si sente nella propria comfort zone però il mio consiglio personale più condividi più ricevi feedback più ti puoi autovalutare più puoi migliorare completamente spassionato però ottimo che tu sia già in questo in questo mood diciamo quindi molto bene grazie e direi che possiamo passare a un insospettabile Johnny ciao Johnny chissà e là mi sentite? sì grandi allora che dire sono Giovanni in arte Johnny o Johnnitz con la zeta finale a seconda dei contesti anch'io sono stato un collega di entrambi quindi insomma ci sono un volto noto direi almeno per voi boss del user group e bene anch'io lavoro nell'ambito della BI della produzione di dashboard mi è capitato di avere a che fare Quantablo per quanto non lo usi molto di frequente comunque non quotidianamente ma mi è capitato di utilizzarlo insieme anche ad altri tool come ben sapete e nulla sono interessato in generale del mondo della data visualization quindi insomma mi fa piacere seguire quello che proponete ecco fine cosa non fanno 50 euro vero Davide? sì esatto non li ho mica visti ma ancora che se sono 50 test o 25 per uno questo mi era sfuggito erano 50 tuoi io la promessa comunque vabbè a parte questo grazie Johnny direi che possiamo a Laura eccoci buonasera a tutti ciao benvenuta io parlo da Roma sono mi sentivo un'infiltrata ma in realtà vedo che non sono l'unica romana in questa sessione sono sono insieme al TUG di Roma da da gennaio di quest'anno lavoro in Enea nella sede principale a Roma ma abbiamo sedi anche a Bologna informatica gestionale nella divisione ICT e diciamo ho usato poco i dashboard ma vengo anche da esperienze con altri prodotti quindi comunque so cosa voglio e quindi abbastanza incuriosita mi sto appassionando di questo di questo tablò che diciamo sono già due due tre anni che abbiamo in casa e che insomma mi dà sempre tanta ispirazione come Davide anch'io mi dà del cuore a Bologna quindi da vent'anni Bologna è la mia seconda città quindi mi sento meno infiltrata così non so se è possibile partecipare c'è stato un momento in cui ho perso completamente la connessione ma non ho capito se posso partecipare analogamente al TUG di Roma anche in quello di Bologna assolutamente sì assolutamente altrimenti non ci sarei neanche io esatto ok quindi la facciamo un po' mista facciamo un gemellaggio esatto c'è amore in tablò qui tanto grazie grazie mille in realtà passiamo a un'altra Laura abbiamo un caso di omonimia e mi sentite sì ciao benvenuta ciao grazie io lavoro all'ufficio di statistica della città metropolitana di Roma e ex provincia e abbiamo preso tablò e desktop e in realtà anche server però in realtà siamo digiuni sulla formazione e sto seguendo dei tutorial che ho trovato su youtube in italiano per ho fatto alcune una decina di esercitazioni non di più e abbiamo come ufficio una miniera di dati anche in serie storica ma dopo aver visto l'egreggio il lavoro fatto a città metropolitana di 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 Bologna e e comune di Bologna sul contablo sul tante statistico metropolitano e sulle città metropolitane al confronto vorremmo dare delle visualizzazioni dinamiche e non più pdf grafici statici vorremmo rendere questo servizio alla cittadinanza gli stakeholder e diventare bravi insomma anche se siamo proprio con la clava all'abc e meno dell'abc quindi questa potrebbe essere un'occasione per imparare perfetto speriamo che possa essere un contributo aggiuntivo a quello che state già facendo e stai già facendo quindi ce l'auguriamo assolutamente poi grazie mille vediamo un po' Guido vediamo se riesci a disattivare il mute sul microfono diversamente proviamo a recuperarlo in seguito ok vediamo se in cia allora proviamo a passare oltre vediamo poi di recuperare Guido Licia eccomi si sente? sì benvenuta grazie io sono Licia Nardi lavoro in città metropolitana di Bologna e sono proprio diciamo così la persona che ha fatto il sito che ha appena citato casualmente Laura citando città metropolitana confronto e l'Atlanta statistico metropolitano insieme poi a Fabrizio Dell'Atli cioè noi siamo il servizio studio statistica e ci occupiamo proprio di dati di natura sociale economica a servizio delle politiche ecco in qualche modo sono tre anni che tutti i giorni praticamente lavoro con Tableau se non lavoro con Tableau lavoro con Python per lavorare dati da dare impasto Tableau quindi la trafina un po' è quella sono molto contenta di questo user group perché potete immaginare da autodidatta ho dovuto come la collega prima andare su YouTube blog ma il grande e il grosso è internazionale quindi mi sono dovuta smazzolare video in inglese per fortuna Makeover Monday ovviamente aiuta tanto però finalmente già il fatto che voi parlate in italiano io vi voglio bene ma non sappiamo usare Tableau c'è questo problema parliamo italiano ma non sappiamo usare Tableau non è vero Fabio io non ti conosco però caso vuole che in realtà tu sei uno dei primi in cui io sono incappata vedendo proprio infodate e amando il basket quindi tre anni fa ho cominciato ti giuro sono proprio così incappata stranamente in questo Fabio Fantoni che faceva delle grandi dashboard cestistiche di MBA un po' di tutto ma guarda allora Tableau si può e lì forse mi è nata la passione forse è uno dei giorni più belli della mia vita è uno dei giorni più belli della mia vita quando sento queste cose qua sono sincera grazie veramente guarda questo allora sei l'esempio secondo me è perfetto di quello che ho anticipato prima che non era una fesseria è che secondo me proprio passa questo messaggio di fare qualcosa per passione che poi dopo diciamo è più secondo me è contagiosa la passione non il tecnicismo e quindi a prescindere dal risultato anche questo feedback che ci stai dando secondo me guarda mi ripaga per esempio delle eventuali notti che ho passato al posto che a dormire a fare alcune cose e sono contento sì sì solo che dopo le notti non le fate passare a me perché ho cominciato a studiare quindi non so se è un merito o un demerito però sto scherzando è una questione che tu poi lo dovrai trasportare cioè è tipo il virus che lo devi passare a qualcun altro la conoscenza in genere quindi infatti infatti il fatto che Laura abbia proprio citato casualmente proprio prima di me che non conosco il sito ha ugualmente fatto un sacco di piacere a me perché poi uno fa e dice chissà chi lo vede quindi niente grazie ottimo grazie a te anzi per il contributo grazie mille grazie quindi direi dopo lì c'è abbiamo Luca vediamo se ciao a tutti ciao Luca benvenuto ciao ciao Fabio anch'io lavoro in Bitbang quindi ho conosciuto Tableau da diciamo circa un anno oltre un anno oltre che il tool in sé apprezzo molto la community che c'è dietro Tableau quindi abbiamo detto di Tableau Public anche ad esempio il Makeover Monday e quindi frequento questo user group per approfondire le tematiche tematiche relative e imparare appunto dalla condivisione perfetto non avevo colto quale Luca fosse ho capito quando ha parlato che Luca è ok hai capito dal copione che esatto gli altri 50 euro che dobbiamo dare a qualcuno ok no stavolta mi tocca non volevo ah ok va bene va bene allora tutta roba mia grazie mille e ribenvenuto direi che adesso passiamo a Maria vediamo se mi sentite ciao a tutti ah quella Maria effettivamente non mi suona tanto questo nome però vabbè ciao a tutti scusate ciao Daniel e comunque sono li conosco bene entrambi eravamo colleghi sono un attuale collega di di Fabio eh lavoro anche io in Bitbang con i dati quindi in un team di Modern BI con i dati con le visualizzazioni ma poco con tableau e quindi sono qui proprio per approfondire questo aspetto e chi meglio di Fantoni e di Daniel ci possono dare queste queste informazioni va bene questo know how va bene grazie mille in realtà aspetto dei risultati pratici ciao a tutti ciao grazie mille direi che c'è un'altra Maria ciao mi sentite sì ciao allora io ho lavorato tanti anni in DOX a Milano e poi sono tornata a Bologna dove insomma mi aspettava mio marito e sono diventata mamma e adesso diciamo che sto frequentando un master in business data analysis online e un po' per riaggiornarmi perché insomma vorrei rientrare nel mondo del lavoro e ci hanno insegnato in una lezione a utilizzare tableau e ci servirà anche per il progetto finale del master quindi anch'io sto smanettando un po' da autodidatta perché sì in quattro ore di corso non è che abbiamo visto moltissimo e mi sta piacendo vorrei approfondirlo vorrei insomma che diventasse una delle competenze con cui rientrare nel mondo del lavoro ecco tutto qua perfetto allora speriamo di poterti dare una mano grazie speriamo grazie a te della presentazione e vediamo un po' direi Michele sentite ciao a tutti ciao 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 io sono collega di Sicilia che ti ha scritto prima in chat quindi lavoro per l'ufficio statistico dell'invalsi e anche noi abbiamo iniziato ad utilizzare tableau con tableau public circa un anno e mezzo fa con l'obiettivo di pubblicare i risultati dei nostri rapporti quindi non solo con il classico pdf ma anche attraverso tableau public quindi da un anno e mezzo i rapporti che pubblichiamo sia per i dati nazionali i dati internazionali vengono pubblicati anche attraverso questa piattaforma abbiamo iniziato anche noi da autodidatti io sono un ex consulente BI però ci siamo messi con Cecilia un pochino a smanettare sul prodotto non conoscendolo seguendo anche un pochino come fonte di ispirazione sia l'ISTAP quindi la pubblicazione dei rapporti BESS sia infodata denominato e anche il portare della città metropolitana di Bologna e quindi seguendo queste fonti di ispirazione ci siamo messi un po' a lavorare con tableau e poi ne abbiamo iniziato anche a fare un uso interno insomma quindi partendo da tableau public poi ci siamo incuriositi il prodotto abbiamo utilizzato anche per altri scopi perfetto ok grazie mille e adesso abbiamo un altro Michele di cui vediamo una simpatica gif eccomi ciao a tutti sentite ciao Michele ciao ragazzi che dire allora niente con tableau ciao a tutti intanto è bellissimo bellissimo questa iniziativa davvero l'ho aspettata per anni per anni direi ottimi ottimi host tra l'altro eccellenti davvero ma da dove viene l'endorsement dal fatto che conosco tableau perché ci ho lavorato quindi ho lavorato già in passato con Davide con Fabio e niente adesso io vi parlo da Madrid attualmente lavoro per Snowflake gestisco il team di pre-sales sud Europa e recentemente come dicevo ho lavorato per molti anni a Londra a tableau come sales consultant e non so sono contentissimo di essere qua manca un po' quel no quel face to face quei cicchetti quello spizzetto però insomma esatto o quei dolcetti aberranti alle tableau conference pieni di zucchero che a te piacciono tanto io vado matto infatti sì sì adesso sono molto più in forma e tra le altre cose adesso Michele non lo sta dicendo però nel suo trascorso di tableau specialmente alle tableau conference è anche una delle persone che ha avuto degli speech sul palco quindi non è che ha lavorato per tableau ha lavorato per tableau quindi se andate su youtube probabilmente una sua presentazione con una gag bellissima che hanno capito veramente in pochi però è stata strepitosa dovreste trovarla quindi un'altra figura che secondo me è tranquillamente un punto di riferimento può essere un punto di riferimento perché qua non è che ci sono host e partecipanti cioè qua facciamo parte tutti della stessa community quindi anche il contributo di Michele che è un insider diciamo ex però credo sia un valore aggiunto proprio che abbiamo come user group sì poi tra l'altro come diceva Licia che ha iniziato a seguire te e Fabio nei vari social anche io ho iniziato così si inizia così in quanto fan di NBA ecco non non pomparmi troppo anche perché comunque io ho imparato da voi un sacco di cose e per quello dico siete veramente degli host eccellenti logicamente io vedo vedo molte cose lato back end o dietro le quinte quindi soprattutto adesso essendomi spostato un po' più sotto no? nello stack ecco però assolutamente nel data visualization ci ho a che fare tutti i giorni con Snowflake Tableau è il nostro partner principale in assoluto e non lo dico perché sono qua ma perché perché è la verità e quindi e quindi lo uso lo uso comunque ogni giorno ed effettivamente confermo ne vedo tanti ne vedo tante di soluzioni e Tableau davvero ha quel qualcosa in più che penso poi sia il perché il motivo per cui tutti siamo qua insomma però ecco non volevo dilungarmi troppo gliel'ho appena promesso a Fabio su Whatsapp sarà rapido il più lungo e vabbè pensa se non l'avessi fatto tanto dici a me che sono prolisso quindi no ma questo è niente dai va bene va bene te l'avevo detto cheat ti ho già scritto un po' di feedback hai ragione hai ragione dopo lì leggiamoli condivido con il buon Davide grazie mille comunque a voi dunque dopo Michele Mirko vediamo se ciao io non so se mi sentite sì sì ti sentiamo benvenuto sì no perché oddio non avevo mai usato zoom in questo modo l'interfaccia la trovo un po' minimalista diciamo comunque sono un analista informatico per il comune di Bologna lavoro da un annetto per il comune la maggior parte dei miei colleghi usa Tableau io in particolare diciamo al momento non ho le le mani in pasta ecco mi occupo più del portale open data di preparare i dati con Python e niente questo principalmente però più che altro ecco sono qui per curiosità un po' per vedere come la community e anche perché è molto probabile che nel prossimo futuro dovrò metterci le mani anche io bene te lo auguro nel senso che così oltre ai dati vedi i manipoli e oltre a manipolarli li visualizzerai anche quindi speriamo che sia così va bene grazie mille Mirko direi che passiamo a Monica che non mi ricordo se proviamo eccoci ci sono? sì ci sei assolutamente benvenuto ciao a tutti grazie Fabio grazie Davide di nuovo smicciato il microfono in off Monica adesso? sì adesso vai ti sentiamo vederlo schiacciato due volte lavoro per la città metropolitana di Bologna sono una principiante completa di tableau ma lavoro con Licia che invece è un mago e anche con Fabrizio del comune di Bologna che è altrettanto bravo e ho loro che mi mostrano insomma questa capacità di catturare l'informazione in modo così dinamica e anche di aggiornarla così velocemente che non è male invece di dover riprendere da zero per ripresentare gli stessi dati magari dell'anno precedente e quindi sono curiosa sono interessata e ringrazio anche Laura che ha parlato prima invece della CM di Roma che conosco e non sapevo di trovarla in questo gruppo grazie ancora ciao grazie allora direi che c'è un nome iniziale M Sartori quindi non so bene ci sei? microfono attivo adesso è spento adesso è acceso mi sentite? sì ciao Margherita ciao ciao lavoro in una società che si occupa di infrastrutture di ingegneria e in particolare mi occupo di mobilità anch'io e niente non uso Tableau abbiamo scaricato la versione di prova una volta per fare qualche grafico un po' più accattivante correlare più serie di dati però ecco volevamo appunto capirne le potenzialità perché si possono fare cose veramente fighe quindi se poteva servirci ecco quindi ero curiosa però super principiante va bene quindi guarda sei un ottimo beta tester per vedere anche come strutturare dei contenuti in funzione anche dei vari livelli magari approcciarlo da tutti i punti di vista con contenuti di difficoltà o di expertise crescente quindi grazie mille del contributo grazie a voi e allora direi che un altro iniziale cognome M Villani ciao mi sentite ciao io Margherita da Bologna sono una collega della Margherita precedente quindi anch'io mi occupo di mobilità e pianificazione dei trasporti abbiamo usato Tavlo appunto a livello base e siamo curiosi di capire le potenzialità perché oggettivamente ci sono veramente tantissime cose fighi da fare anche il sito della città metropolitana è molto interessante stimolante quindi siamo pronte a metterci in gioco diciamo ottimo grazie mille per questa occasione opportunità grazie a voi per aver partecipato cioè per essere appunto partecipanti anzi e allora direi Pierluigi e vediamo se Pierluigi si riesce a togliere dal mute diversamente proviamo a recuperarlo magari dopo pronto? eccoci grande ci sei ciao benvenuto ecco non sento voi ma parlo allora io sono mi chiamo Sant'In Pierluigi e sono veramente un infiltrato perché parlo dal Friuli parlo dal Friuli perché il mio desiderio sarebbe quello di fondare un tableau user group di Udino del Friuli e questa è la ragione per cui insomma cerco di copiare dai più bravi ecco che poi ce li presenterai perché evidentemente va bene cioè è grande quindi un potenziale collega bene se nascono dei tableau user group in giro per l'Italia è sempre un bene ottimo bene personalmente ti auguro di poterlo aprire quindi anzi a più presto sì sì assolutamente grazie mille vediamo Raffaella dopo vediamo se riusciamo a sentirla pronto mi sentite ciao ciao Raffaella benvenuta allora io sono di Bergamo però la nonna di Imola quindi forse mezza infintata ok grande una famiglia allargata uso tantissimi tool di data visualizzazione ormai da più di dieci anni perché mi occupo di business intelligence da una ventina d'anni ho utilizzato Tableau nel passato e sono sincera non mi è piaciuto tantissimo l'ho ripreso in mano ultimamente per motivi di lavoro e spero con questo gruppo come lo facciate amare di più perché voglio scoprire proprio tutte le potenzialità che probabilmente io non conosco ok è singolare è come contributo perché di solito si sente un po' il contrario cioè gente che ha fatto cose con più tool magari viene diciamo di Tableau quello che molto spesso colpisce di primo acchito oltre alla parte estetica perché credo che non sia un grande mistero risulti molto accattivante anche su alcune robe analitiche è particolarmente snello comunque dai speriamo di poterti far cambiare idea dai grazie buon lavoro grazie mille grazie a te allora direi che siamo quasi arrivati alla fine quindi Pierluigi l'avevamo sentito Roberto Amut eccomi qua eccoci qua eccoci qua io invece coordino un progetto di controllo strategico che utilizza Tableau come strumento di analisi di visualizzazione sono un utilizzatore dummy nel senso che il mio testo di formazione è Tableau for Dummies ok e Pierluigi invece è il mio tutor è l'esperto che ci segue quindi la cosa interessante che ho sentito è che ci sono tanti anch'io mi occupo di mobilità visto l'azienda per cui lavoro sono tanti che stanno facendo progetti di mobilità utilizzando Tableau quindi non so come mi è arrivato l'invito probabilmente da qualche altro webinar di Tableau da qualche mailing list perché ovviamente sono di Trieste ma ho una cognata di Parma quindi non so se questo mi permette di parlare assolutamente va benissimo assolutamente sì è la storia dei sei livelli di connessione esatto a noi ci basta un congiunto ma veramente non è il primo di terzo grado del centesimo livello esatto quindi benvenutissimo ok adesso di Pierluigi Scouting SPA un nome un po' particolare di Alan Agrafe chissà se ciao mi sentite? sì ciao scouting preferisci scouting o SPA? no no scusate ma mi si è connesso con l'account aziendale per cui tranquillo dopo questo intervento uscirò e rientrerò col mio nome comunque mi chiamo Fabio Grazioli lavoro appunto per la società scouting e da qualche anno da un paio d'anni abbiamo cominciato a usare Tableau diciamo che ho cominciato io poi adesso l'esperienza si è stesa ad altri colleghi per appunto fare i servizi ai clienti che sono banche e imprese l'ho trovato fin da subito molto interessante e immediato tant'è che sono riuscito a usarlo io per cui sono anche curioso di essere qui abbiamo una sede a Bologna io sono di Parma per cui dai non sono neanche troppo lontano per cui direi che ho due motivi per essere accettato assolutamente guarda non te ne serviva nessuno però ne hai due quindi va più che bene va più che bene benvenuto ok dunque rimane solamente l'ultima persona in ordine alfabetico non ce ne vogliate vediamo un po' Suzanne spero di averlo pronunciato correttamente vediamo se se ci sente vedo che hai il microfono libero però non ti sentiamo proviamo a aspettare un attimo viceversa se no aspetta manca una persona Pietro Gentini infatti lo vedevo Pietro ma non lo vedevo è tremendo in realtà come? è tremendo ah ma perché un infiltrato il buon Pietro ciao a tutti allora avevo un bel da cercare tra gli attendee allora mi avete fatto lo scherzone furbacchione io sono il più infiltrato degli infiltrati a parte Michele ciao Michele non ho avuto modo di salutare ciao Pietro che sta 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 Madrid io di fatto sono lombardo anche se adesso di adozione piemontese ho fondato con Davide il tableau user group di Roma e adesso faccio anche il panelista quello di Bologna quindi così ho dovuto poco hackerare zoom per finire qui ok comunque io sono Pietro Gentini sono il boss di Davide in Ecomedia e diciamo sono anche insieme a lui siamo stati poi fautori del tableau user group di Roma e quindi anche adesso vediamo un po' Bologna come un fratellino minore ma no ma semplicemente perché è arrivato dopo ecco anzi devo dire che la community mi è sembrata decisamente molto molto attiva anzi complimenti siete tutti molto affiatati spero che sia così anche nei prossimi incontri io adesso vabbè sono un utilizzatore storico di tableau dal 2011 più o meno ok infatti siamo un po' conosciuti tutti nell'arco di questa storia con Fabio e con Michele anche quando era in tableau ok detto questo mi zittisco appunto perché io sono appunto sono proprio un infiltrato e lascio la parola a Fabio e a Davide che sono loro i leader e io sono per caso finito con il panelist il vero infiltrato dello user group ecco esatto io ho reale infiltrato va bene direi che ci dovremmo essere sentiti tutti tranne qualcuno che potrebbe aver avuto qualche difficoltà o magari sta seguendo e non riesce a parlare quindi direi se per caso riuscite a recuperare il ehm la possibilità di parlare sì ciao ciao io sono vabbè sono infiltrata alla grande perché vabbè sono a Roma ho lavorato tanti tanti anni fa con Davide quindi poi però lui ha seguito un'altra strada e io invece sono rimasta un po' un po' ferma e vorrei tanto lavorare con Tableau ma tanto tanto ma non mi ci fanno lavorare quindi mi devo diciamo consolare con eventi tipo questo quindi sentirne parlare o continuare a studiare perché pur avendo preso la certificazione sto continuando a studiare però non ci lavoro non ci lavoro beh però prendere la certificazione comunque intanto complimenti perché non è proprio banalissimo quindi complimenti eh si vede spero spero che nel futuro prima o poi di avere la possibilità beh vabbè diciamo le competenze tanto le hai acquisite quindi quelle non le dovresti dimenticare grazie grazie a te che dici Davide partiamo con i due interventi vista anche l'ora eh ok dunque come vi avevamo anticipato in realtà la la prima sessione di questo user group anche perché volevamo conoscerci quindi volevamo capire per bene che tipo di contenuti andare a fare ha un taglio abbastanza generale generico nel senso che parliamo più di linee guida quindi portate un po' pazienza se alcune cose magari le potreste aver già sentite proprio per un discorso di condivisione quindi con me adesso vediamo come avrete forse letto nell'agenda un po' il concetto di come nasce una dashboard non tanto tecnicamente un una dashboard a seconda di come lo vogliamo declinare di come nasce l'idea di quali sarebbero alcune domande che probabilmente farsi potrebbe avere avere senso soprattutto per il proseguimento di un lavoro con Davide vediamo invece alcune cose un po' più pratiche di come utilizzare un workbook e poi alla fine ci siamo ritagliati Davide 5-10 minuti per farvi vedere come dalla stessa base dati abbiamo tirato fuori due interpretazioni completamente diverse proprio perché ognuno l'ha fatta alla propria maniera senza neanche consultarsi senza che ci consultassimo insomma un po' d'italiano così da rivedere quindi direi che vi condivido se riesco il monitor adesso datemi un secondo e ditemi se mi vedete allora un attimo solo share screen ok ho il panelist un secondo che con il con il crash di Davide sono andato un po' in crisi quindi screen 2 Davide tu che sei la voce della verità vedi adesso sì perfetto perfetto quindi come nasce una dashboard cercherò di essere il più breve possibile benché mi vedete ancora sì Davide scusami mi vedete ancora sì grazie mille sì 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 scusatemi quindi cercando di rimanere in tempi umani vi volevo raccontare un po' come nasce una dashboard dal mio punto di vista che non è necessariamente quello giusto però spero che possa essere uno spunto di riflessione qualunque sia il progetto con cui andrete a lavorare abbiamo visto che ci sono persone che già lo usano nel quotidiano lavorativo altri che sono dei curiosi altri che magari lo fanno per passione quindi io spero che in un certo senso ognuno di voi riesca a prendere qualcosa da quello che è la mia esperienza non so se ci sono dei fan di ritorno al futuro qua però sostanzialmente un po' come Marti quando va nel futuro si porta indietro dal manacolo con i risultati sportivi a me piacerebbe aver ricevuto queste domande o consigli quando ho cominciato a lavorare con Tablou ma più in generale quando ho cominciato ad approcciare la rappresentazione dei dati quindi spero che come dicevo vi possa in qualche modo essere da spunto di riflessione dunque la prima cosa secondo me su cui io insisterei è chi ci commissiona la dashboard come vi dicevo io ho questa doppia natura nel senso che realizzo cose per piacere o nel tempo libero e poi anche realizzo cose perché il mio lavoro mi impone ho dei clienti che mi chiedono di dover realizzare qualcosa e secondo me questa discriminante è fondamentale soprattutto per capire chi abbiamo dall'altra parte nel senso che magari il risultato per assurdo potrebbe essere lo stesso però potrebbe cambiare il come ci si arriva e soprattutto il quanto è necessario per raggiungere questo obiettivo quindi la prima cosa che mi chiederei nel caso in cui aveste questa dicotomia è capire se lo state facendo per piacere o per dovere perché un po' tempi motivazioni potrebbe cambiare però tenerlo a mente secondo me male non fa qua entriamo in un ambito che in diversi hanno già citato quindi io spero che non risulti troppo scontato o che magari possa servire per chi non ha così tanta familiarità con la gestione dei dati in quanto tali però diciamo che fondamentalmente una dashboard è un mezzo con cui noi andiamo a realizzare la visualizzazione di questi dati e come prima cosa sarebbe bene chiedersi primo l'ambito dei dati è noto io qua faccio un excursus che non sarà l'ultimo personale per quando lavoro per infodata per infodata io scrivo di varie tematiche mi capita di scrivere di sport di tecnologia di demografia insomma un po' di tutto faccio il tutologo senza in realtà essere qualificato provo a qualificarmi con i dati però molto spesso mi capita di incontrare degli argomenti di cui non so non so nulla banalmente ho fatto mi ricordo tempo fa una dashboard sugli scacchi sulla storia degli scacchi che benché io conosca come gioco non avevo idea di come funzionasse il meccanismo di valutazione dei giocatori che era l'unica metrica che avevo per creare questa dashboard quindi mi sono dovuto un attimo documentare per non scrivere delle fesserie incredibili quindi conoscere l'ambito dei dati è fondamentale per poter andare avanti e non diciamo costruire dei castelli di carta sul nulla il livello di dettaglio io credo che a tutte le persone che hanno parlato di dati sia forse la cosa che rimarrà più diciamo nota o alla quale presteranno attenzione perché io molto spesso mi sento dire ma perché in questa dashboard non hai fatto vedere anche che ne so su una dashboard che fa vedere il numero di casi positivi di covid a livello regionale ti dicono ma perché non hai fatto vedere anche il dettaglio del comune perché chi mi ha fornito i dati magari non mi ha dato il dato a livello comunale quindi il livello di dettaglio ci aiuta a capire cosa possiamo tirare fuori e soprattutto cosa non potremo tirare fuori tenerla a mente ci riserva un piccolo scudo nei confronti di chi ci potrebbe attaccare per dire ma perché non hai fatto questo ma perché non hai fatto l'altro e soprattutto ci aiuta a guidare il nostro sviluppo della dashboard anche qui pulizia e preparazione le persone che hanno parlato di python di preparazione dei dati lo conosceranno benissimo però è chiaro che siccome Tableau come tanti altri tool ci permette di unire tante sorgenti dati non sempre le sorgenti dati si parlano quindi se è necessario far sì che queste queste sorgenti dati si parlino tra di loro in modo da scatenare delle azioni tra questi grafici è bene che noi ne siamo consapevoli quindi la preparazione e la pulizia sono due fasi che potreste dover mettere in preventivo immagino specialmente su dei progetti lavorativi quindi non fatevi scoraggiare da questa cosa anche perché nel caso vi dovesse capitare per esempio senza uscire da Tableau esiste Tableau Prep che è uno strumento con il quale potete preparare i dati secondo le vostre esigenze e in ultimo il concetto dell'aggiornamento dei dati anche qui ci spostiamo sempre più in una logica diciamo enterprise potremmo dire però ricordiamoci sempre qual è l'aggiornamento la frequenza di aggiornamento dei dati specialmente in funzione della granularità per esempio avrebbe senso aggiornare quotidianamente dei dati che riportano dei dati mensili probabilmente no fareste fare un lavoro incredibile al Tableau Server più che incredibile inutile e viceversa potreste aver dimenticato di considerare quali sono le frequenze in funzione di quello che vorrete fare quindi su questo cappellino dei dati volevo che fossero chiari alcuni punti specialmente per chi magari non è molto abituato a lavorarci cerco di andare abbastanza veloce anche sul messaggio perché un po' lo abbiamo già anticipato però può essere articolato in diverse maniere e modalità però in sostanza una dashboard dovrebbe avere un messaggio il più possibile chiaro e immediato molto spesso in alcuni libri si sente parlare della regola dei 5 secondi cioè quella in cui si fa l'esperimento di far vedere una dashboard 5 secondi la si toglie e si chiede alle persone che l'hanno vista che cosa si ricordano molto spesso una dashboard fatta bene lascia un segno anche in 5 secondi una dashboard fatta un po' meno bene potrebbe non essere così efficace il messaggio comunque non deve essere necessariamente uno unico che ne so tipo l'evidenza numerica di una tesi che ne so abbiamo visto la corsa per le presidenziali americane quindi non è che se vediamo che Biden ha vinto e Trump ha perso quello è l'unico messaggio potenzialmente se pensiamo a una dashboard in ambito lavorativo potrebbe avere tante informazioni però se è strutturata bene il messaggio di come queste si possono usare probabilmente sarà anche chiaro di conseguenza se abbiamo individuato un messaggio chiaro che vogliamo comunicare con la dashboard e i grafici che ne fanno parte il nostro sviluppo dovrà essere orientato attorno ad esso in modo da andare dritti per la nostra strada quando prima vi parlavo di chi commissiona la dashboard secondo me è molto importante anche pensare a chi la dashboard sarà dedicata perché come qualunque tipo di comunicazione anche la dashboard ha un suo linguaggio che è tanto più efficace tanto potrà risultare efficace la dashboard per i destinatari io questa cosa l'ho spiegata l'altro giorno ai miei genitori per intenderci che non fanno questo di mestiere e gli ho fatto una metafora un po' borderline gli ho detto immaginatevi la divina commedia probabilmente il libro o l'opera letteraria più famosa è una tra quantomeno le più acclamate se la deste così come è stata scritta a un giapponese la divina commedia rimane meravigliosa però il linguaggio non è chiaro perché non ci sono punti di contatto quindi benché una dashboard possa essere tecnicamente fatta bene se non ci preoccupiamo di chi chi la deve leggere di chi la deve usare potremmo avere dei problemi quindi primo punto individuare il nostro target di riferimento in ambito lavorativo saranno gli utenti finali della dashboard che potrebbero essere uno più di uno o categorie di persone quindi potreste fare un qualcosa che va a un amministratore delegato arriva a un utilizzatore intermedio potrebbe arrivare a un manager livelli di competenze diverse abitudini a consultare i dati completamente diverse quindi già questo è un primo un primo punto di riferimento l'altro è il mezzo con cui le informazioni verranno fluite ora fortunatamente nel 2020 parliamo di dashboard fatte su computer che si vedono su mobile che sia appunto un tablet che possa essere un telefono quindi siamo molto abituati però esistono dei casi in cui non sempre è chiara non sempre è chiara questa cosa cioè avremo un unico canale un unico mezzo un unico layout di riferimento per esperienza personale sia in ambito lavorativo ma soprattutto diciamo extra di collaborazioni quando creo le mie dashboard per la giornata tipo o per il sole 24 ore la stragrande maggioranza degli utenti le consulta da mobile quindi il mio mandato principale è fare un qualcosa che grazie a Tableau che ci permette di disegnare dei layout predefiniti proprio per il per il target a cui ci stiamo rivolgendo mi permette di far sì che i contenuti almeno spero riescano a passare a prescindere da quale visualizzazione stiamo utilizzando io su questo spingo molto perché anche in ottica lavorativa per esempio mi è capitato lo scenario in cui un cliente aveva già cose fatte con un determinato tool che può anche non essere Tableau però il messaggio che ci è arrivato è il nostro amministratore delegato da desktop non accede e se accede gli fa schifo cioè proprio papale papale e quindi sono stato chiamato a fare un re-engineering della user interface e della user experience proprio per far sì che gli stessi contenuti potessero passare nel mezzo giusto quindi anche qua per i lavori che farete che siano personali o che siano lavorativi io vi invito a riflettere su quale sarà il canale o il mezzo con cui i vostri utenti fruiranno il contenuto sulla base delle risposte precedenti da questa specie di questionario che abbiamo redatto e potremmo aver avuto delle risposte tendenzialmente si potrebbero categorizzare le dashboard in tre macro categorie ben inciso queste tre categorie non le troverete da nessuna parte in nessuna bibliografia perché è la mia idea magari fra 200 anni verrà spiegato dubito fortemente però ecco ho fatto questi tre esempi che vi voglio mostrare con degli esempi a mio parere molto belli presi dalla Tableau Community e in particolar modo dal profilo della Tableau Public Gallery dove ci sono le Vids of the Day che vi consiglio caldamente di controllare ogni giorno perché ci sono delle cose meravigliose dunque primo tipo infografica questa è stata fatta da Sarah Bartlett che magari chi segue la community Twitter o più in generale quella Tableau agli eventi conoscerà sicuramente perché è stata finalista varie volte dell'Iron Vis e comunque produce delle cose veramente molto belle la dashboard nella sua interezza è quella che vedete nella parte destra che quando ho visto in sostanza è una sorta di piccolo vademecum delle città europee che si possono visitare con un budget abbastanza contenuto la prima cosa che mi è venuta in mente è stata una sorta di Lonely Planet a colori perché fondamentalmente è un come si vede poi nella parte centrale sulla sinistra una sorta di ibrido tra informazioni visuali appunto la parte grafica e la questione di informazioni cioè anche banalmente scritte se vedete in ogni singola porzione al di là di come si lega cioè di come si è costruito l'indice di quale sia il contesto della dashboard ci sono sempre delle frasi che ci guidano e questa dashboard potenzialmente funzionerebbe bene anche stampata su un foglio di carta perché in primis è bellissima almeno dal mio punto di vista e poi ci fornisce delle informazioni che non necessitano di interattività e comunque a prescindere da tutto fornisce un corredo informativo con le descrizioni quindi questo secondo me è il primo tipo di dashboard a cui potremmo pensare di aspirare se risponde alle domande di cui sopra il secondo tipo è quella delle dashboard analitiche anche con KPI ora anche qua siamo un po' borderline perché a mio modo di vedere forse l'ho scelta io ed è probabilmente per quello siamo di fronte ad una cosa visivamente molto bella e la differenza cioè è anche curata se vedete il tralizzo di energy che fa da N secondo me sono tutta una sorta di finezze che insomma Brian Moore ha scelto sapientemente la differenza rispetto a prima che al netto del contesto descrittivo che c'è sotto al titolo non ci sono più tutti quegli appunti testuali che c'erano nella dashboard precedente però se notate c'è una plettora di KPI in alto quelli tutti colorati tipo fossil fuels e alternative energies che già in realtà guardando la dashboard così solamente aprendola ovviamente sapendo di che cosa stiamo parlando ci danno già delle misure analitiche di o volumi kilowatt mi sembra energie orari comunque terawatt orari e anche delle misure percentuali quindi sulla base di quella che è diciamo così l'area di analisi di questa dashboard abbiamo KPI analitici che in questo caso si abbinano molto bene anche a tutta la parte estetica però in generale con questa abbiamo già dei KPI che potremmo comunicare tranquillamente per delle analisi molto mirate che vanno al di là della semplice infografica l'ultima tipologia se c'era qualcuno che pensava che non avrei fatto vedere qualcosa di pallacanestro si sbagliava amaramente è una Viz of the Day piuttosto recente fatta da Zach Jays che è uno dei partecipanti al Sport Viz Sunday che è una delle iniziative tipo il Makeover Monday per chi per chi il conosce e questa secondo me magari poi se rimane un po' di tempo la vediamo anche interattiva rappresenta a quello che personalmente è il mio diciamo ambito preferito perché oltre a essere obiettivamente secondo me molto bella già di suo così statica se vedete il vero focus di questa dashboard non è tanto la parte destra ma la parte sinistra in cui l'autore ha diciamo perimetrato quella che è l'interazione che l'utente potrà fare infatti si può scegliere se guardare tutti i tiri realizzati dai giocatori oppure dalle squadre quindi player team come primo switch e nel caso in cui sia stato scelto il giocatore o la squadra si può andare a scegliere quale giocatore in questo caso vediamo LeBron James ma potremmo scegliere tra tutti i 400 e passa giocatori per ogni stagione NBA possiamo vedere ad esempio o i dati della stagione regolare o i dati dei playoff oppure tutti i dati possiamo decidere di vedere gli split per singolo anno oppure vederlo per singola stagione a pagina intera possiamo decidere che tipo di grafico io sono molto fan dei grafici esadecimali perché anche io li ho fatti anni fa e quindi mi piacciono molto però la possibilità di poter scegliere è qualcosa che nel classico pezzo di carta non potremmo mai fare quindi questa ci permette di esplorare in un certo senso il nostro dato qualunque sia la squadra qualunque sia il giocatore qualunque sia la stagione oppure anche la tipologia stessa del grafico quindi visto che abbiamo parlato un po' dell'aspetto estetico direte ok abbiamo capito le domande sappiamo le risposte possiamo categorizzare la dashboard che vogliamo fare finalmente ci fai partire con lo sviluppo vero e proprio dipende dipende perché andando sul pratico secondo me è difficile identificare un layout in partenza da subito e soprattutto è un qualcosa che risulta abbastanza difficile non esiste una strada unica secondo me però una via che ci può aiutare per non disperdere le energie è quella di abbozzare una prima idea della nostra dashboard creando un mockup il mockup ci guida e può essere realizzato a seconda e qua torniamo sul it depends su quanto ci si sente confidenti o nel fare i mockup in generale o anche con il tool che potremmo utilizzare perché abbiamo due strade sostanzialmente che mi vengono in mente la prima è imbastire direttamente su Tableau già con dei sample di dati perché non so prendo l'esempio degli amici di Bologna che analizzano i dati della mobilità magari sanno già che in alto vorranno una distribuzione temporale in basso vorranno una serie di KPI e non so nella parte centrale una mappa potenzialmente anche se i dati non fossero ancora pronti quelli che andranno a utilizzare potrebbero utilizzare il classico superstore che più o meno tutti conosceremo e mettere dei segni a posta anche solo per vedere se complessivamente quello che abbiamo imbastito ci convince io ogni tanto faccio così ma molto spesso quando ho già i dati pronti e magari non sono sicurissimo faccio un salto nel passato e uso carta e penna carta e penna è velocito con un esempio abbastanza veloce perché è un caso pratico in preparazione a questo user group sulla parte destra io scrivo prima destra e poi uso la pagina di sinistra solamente per gli appunti non so funziona così mi ero dato un obiettivo di re-ingegnerizzare una view of the day su un argomento che avevamo concordato con Davide e mi ero dato due ore di tempo l'obiettivo era renderla parametrica c'è una dashboard che è molto bella dopo la vediamo magari e la volevo fare più funzionale massimo due ore ho detto ok vado ci ho speso tutto una mattina alla fine ce l'ho fatta ma mi sono accorto che con i dati che avevamo in realtà visivamente non si notava la differenza parametrica ho buttato via una mattina questo è perché mi sono focalizzato su una cosa molto tecnica e avevo dimenticato quello che fosse il mio layout o comunque il mio obiettivo finale quindi una domenica pomeriggio la stessa domenica con un po' di diciamo umore sotto i tacchi per aver investito praticamente quattro ore ho fatto il mockup che vedete in basso titolo mappa KPI insight o qualcosa del genere e da lì ho detto perfetto prova a darmi un po' di tempo e guardando un film con già un'idea chiara mi sono messo a fare delle prove tutto sommato poi nella parte sinistra vedete l'autovalutazione che ho fatto del mio mockup sia nel primo caso che non era un mockup sia nel secondo però tutto sommato sono riuscito ad arrivare a un punto in cui ho detto ok per le prossime volte come dovrei fare come racconterò allo user group aver usato il mockup sarebbe stata un'ottima idea peccato averla raccontata senza averla messa in pratica visto che vi ho accennato del tempo e praticamente abbiamo praticamente finito non so quante volte ho detto praticamente quanto tempo serve in realtà anche qua dipende da tanti fattori però avere un mockup ci aiuta a scandire il tempo perché specialmente in fase di stima dell'effort ci aiuta ad affinare la precisione in corso d'opera ora non prendete come riferimento la dashboard che poi alla fine vi facciamo vedere alla fine di questa giornata più che altro scalatela su un progetto lavorativo comunque duraturo senza un mockup senza un'analisi farete secondo me sempre fatica e sarà anche difficile prevedere le cose che potrebbero succedere quindi benché i progetti possono essere personali oppure commissionati lavorativi il tempo vabbè oltre che denaro è sempre comunque prezioso quindi non va sprecato e secondo me per evitare di fare l'errore che ho fatto io non va minimamente sottostimato non ne va sottostimata l'importanza per evitare di pagare lo scotto come ho fatto io di buttare via una mezza mattinata un punto fondamentale che probabilmente avrete sentito in miliardi di presentazioni è il classico done is better than perfect quindi cerchiamo di non pensare alla perfezione assoluta come il punto di arrivo finalissimo cerchiamo di fissare delle milestone o comunque degli step intermedi perché lavorando per step questi obiettivi probabilmente li riusciamo a centrare uno dopo l'altro e sulla base di quanto tempo quante risorse che sia tempo denaro in un ambito lavorativo disponibilità di clienti ad ascoltarvi qualunque cosa sia riusciamo a capire se possiamo fare lo step successivo per scalare appunto capendo dove siamo arrivati quanto tempo e quante risorse abbiamo utilizzato quindi benché tutte le dashboard siano ovviamente migliorabili a mio parere non ha senso cercare la perfezione assoluta da subito perché si rischia di cadere nel circolo vizioso dell'insoddisfazione io ogni tanto sento della gente che dice guarda io non sono tanto capace di lavorare con un tableau però ho già in mente di far questo vorrei degli effetti fenomenali che è bello perché c'è della creatività però non deve prendere il sopravvento perché se poi vi scontrate col non saper fare le cose difficili cioè quelle della perfezione assoluta dopo potreste trovarvi un po' in difficoltà nel fare gli step che vi condurranno progressivamente ai risultati finali in sostanza come ultimo punto una cosa su cui io insisto tanto anche con i colleghi che lo sapranno è il beta testing e la critica costruttiva quello che è chiaro per me magari non è necessariamente detto che sia chiaro per tutti per gli altri io cerco sempre di immedesimarmi nei panni di chi vedrà e fruirà i contenuti perché secondo me il successo della dashboard dipenderà dai loro feedback non dai miei che li ho fatti quindi se riuscite ad avere un gruppo di beta tester chiamiamoli non so un paio di colleghi visto che qua ci sono diversi gruppi di colleghi immagino che già lo facciate ma più in generale anche delle persone di cui vi fidate che non sono necessariamente dei conoscitori di Tableau ma magari persone che guardano i vostri i vostri lavori oppure semplici persone che vi danno dei feedback costruttivi non del tipo quel colore non mi piace va bene dimmi perché dimmi quale colore metteresti oppure questa dashboard non funziona va bene però dimmi cosa non funziona che così riesco a capire il tuo feedback lo riesco a integrare magari la prossima volta le sparmiamo del tempo tutti e due e affiniamo costantemente il nostro lavoro quindi direi che se avete delle domande fatemele pure se no più o meno direi che Davide dovremmo essere tutto sommato in linea con le tempistiche che ci eravamo dati per questi interventi che dici io ti lascerei lo screen quindi interrompo la presentazione dammi solo un secondo magari aspettiamo un minuto se qualcuno ha una domanda assolutamente intanto stop la condivisione ok mi nascondo che così non ti do fastidio nella presentazione e allora se non ci sono domande io mi muto grazie Fabio grazie davvero in alcune cose mi sono molto ritrovato in quello che hai detto soprattutto nella definizione delle milestone nel non cercare di fare un lavoro inizialmente subito perfetto questo la perfezione secondo me ci si arriva quando uno comincia a lavorare quando uno comincia a lavorare un progetto detto questo Fabio vi ha raccontato un po' quello che è il concept di una dashboard quindi parliamo dalle idee fino a poi a qualcosa di realmente materiale su cui lavorare quello che voglio raccontarvi io adesso è un po' come organizzare il vostro workbook in tableau spesso mi è capitato di confrontarmi con amici e clienti e mi hanno raccontato a volte di una difficoltà che può essere anche oggettiva di organizzare il proprio workbook quindi la difficoltà poi di andare a ritrovare alcuni elementi rispetto ad altri prendendo spunto da questo ho preparato questa presentazione per voi che sono nient'altro che degli spunti un modo per cercare di secondo me che è poi anche il mio metodo di lavoro di cercare di organizzare il proprio workbook affinché non solo sia ben strutturato nel momento in cui lo sto realizzando ma anche perché se un domani qualcuno che non sia io deve andare a mettere mano questo workbook non parta completamente da zero e non trovi degli spunti che lo aiuti poi a utilizzarlo a fare le modifiche che deve fare la prima cosa da cui parto sono le default properties ogni campo che è presente in Tableau sempre suddiviso tra misure e dimensioni ha delle proprie caratteristiche delle proprie caratteristiche non è detto che Tableau riesca a prenderle in maniera precisa e puntuale quindi una cosa che ci può far risparmiare sicuramente del lavoro è definire quelle che sono le caratteristiche principali e comunque che vengono propagate poi all'interno del workbook di ogni singolo campo questo inizialmente può sembrare un lavoro un po' noioso da fare di quei lavori che ti occupano del tempo in realtà è tempo ben investito perché per l'esempio per chi conosce ad esempio il sample superstore di Tableau sa che per il campo discount che è una percentuale da andare a definire subito qual è il formato e la funzione di aggregazione che dobbiamo applicare a quel campo significa ogni volta che lo utilizziamo in quel campo non doverlo andare a fare delle modifiche ma abbiamo già le sue caratteristiche prestabilite questo per chi non lo sapesse come si fa qui abbiamo il nostro sample superstore qui abbiamo il nostro campo discount come possiamo vedere dai dati il nostro campo discount è una percentuale quindi la prima cosa che voglio fare è quella di andare nel swedful properties andare a dire il number format quindi nel mio caso voglio dire che è una percentuale con un numero decimale ma potremo anche definirlo per altri campi come un numero andando a definire determinate le caratteristiche anche qual è la sua unità di misura mettere un profisso un suffisso e cose del genere se ci sono anche delle se parliamo delle currency quindi delle delle valute possiamo mettere anche nel nostro caso una specifica un specifico simbolo di valuta definire anche come andare a gestire numeri negativi o positivi quindi con il meno davanti poi un numero negativo scritto tra parentesi che è uno standard americano e così via nel nostro caso nel caso del discount una percentuale e per comodità lo vogliamo definire come con una cifra decimale detto questo quello che vorrei fare su questo campo è anche andare a definire qual è la sua aggregazione perché di default Tableau come aggregazione utilizzo sempre una sum ma nel nostro campo nel nostro caso andare a fare una sum della percentuale dello sconto che abbiamo applicato è concettualmente non corretto sicuramente più corretto fare un average quindi a questo punto ogni qualvolta noi utilizziamo il campo discount come vedete verranno prese le caratteristiche delle default properties quindi abbiamo una cifra decimale e la funzione di aggregazione che andiamo a applicare sarà sempre la media ciò non toglie che se vogliamo può aver senso non aver senso potremmo anche andarla a modificare ok però diciamo che sicuramente questo ci aiuta nel non perder tempo dopo soprattutto posso immaginare una persona che un domani prende in mano questo lavoro già si trova delle funzioni aggregazioni già prestabilite con delle formati già prestabiliti sicuramente un grasso risparmio di tempo e di energie un'altra cosa secondo me è veramente importante da fare ma che per esperienze personali lo fanno veramente in pochissimi è l'aggiungere i commenti ai campi e soprattutto ai campi calcolati commenti che poi compaiono quando andiamo in mouse over su un campo ok giusto per farvi vedere noi conosciamo tutti dalla ormai profit ratio che è la che è la somma del profitto fratto la somma del venduto come vedete essendo questo un campo calcolato ho aggiunto un commento che mi spiega qual è il motivo per cui ho fatto questo campo qual è il suo scopo e ho scritto in questo caso essendo anche semplice ho scritto anche la formula e una nota aggiuntiva quello che posso fare per esempio per il campo manufatturieri che viene già di default che è già presente di default nel sample superstore che rappresenta i brand dei prodotti che vengono mettuti come vediamo dal simbolo questo è un raggruppamento in group che però non ci dice andandoci sopra in mouse over non ci dà alcuna informazione a mio avviso è importante andare a scrivere un commento e qui compare il classico boxettino di un text e possiamo dire che proviene dal campo prodotto e volendo prodotto posso metterlo anche bold indica la casa produttrice quindi a questo punto quando vado in mouse over direttamente nel campo ho un'informazione aggiuntiva che sicuramente è molto utile sia per me che sto sviluppando per un domani che ci rimetterò le mani e anche per fare eventuali modifiche questo vi esorto personalmente a spenderci del tempo perché lo ritroverete molto utile poi un'altra cosa importante e anche qui la poto fare raramente è quello di commentare le proprie formule quindi la possibilità di scrivere un commento spesso mi capita anche di parlare con colleghi o amici che non conoscono questa funzionalità in realtà è molto utile utilizzando il doppio backslash anche se qui l'ho scritto male è possibile andare a inserire un commento all'interno del nostro campo calcolato quindi giusto per farvi un esempio crea un campo calcolato che lo chiamo la percentuale del venduto per categoria di prodotto quello che voglio fare è un exam del venduto siccome l'idea che voglio fare è che voglio mostrare comunque all'interno del mio grafico la sottocategoria e voglio vedere la singola sottocategoria e percentuale mi fa del venduto rispetto al totale della categoria questo è l'obiettivo che mi sono prefissato quindi la classica formula che posso utilizzare è utilizzare una level detail quindi faccio una fixed lo dico lo faccio per Gregory faccio una sum del sales e chiudo la graffa mi manca la funzione di aggregazione me la scordo sempre perfetto se io faccio questa formula qua potrebbe essere comunque difficile andarmi a ricordare perché denominatore sto facendo questo quindi sicuramente è molto comodo andare a inserire un commento che mi descrive che qui sto calcolando il venduto per categoria come vedete la scritta è in grigetto non mi dà alcun impatto a livello di correttezza del campo perché è un commento però intanto ho dato un'informazione aggiuntiva al mio campo calcolato a questo punto prendo il mio category il mio sap category ovviamente mi metto la mia percentuale anche qui faccio una default properties andando a mettere andando a cambiare il formato giusto per darvi un esempio qui ci aggiungo anche il venduto aggiungo i subtotali e a questo punto come vedete la mia funzione sta funzionando e sicuramente li dovrò molto utile aver aggiunto un commento nella formula un'altra funzione importante soprattutto adesso con le relationship potrebbe aiutarci è quello di andare a decidere se nel proprio workbook avere una suddivisione tra misure e dimensioni sia a livello di tabella o a livello di oppure aggregate per delle per delle cartelle di default adesso con le relationship tutto viene aggregato in funzione della delle tabelle che vengono messe in relazione ciò non toglie che potremmo utilizzare comunque potremmo risudividere tutti i campi per delle cartelle per defaulters di modo che abbiano un senso logico quindi qui come vedete abbiamo un senso abbiamo raggruppato tutti i campi che riguardano i clienti i dati geospaziali i dati degli ordini i dati sui prodotti e così via questo è sicuramente un modo molto comodo per andare a suddividere tutti quelli che sono i campi senza poi doverli andare a cercare in ordine affabetico poi andarci a ricordare da quale tabella provengono cosa fondamentale cosa che spesso non viene mai fatto è colorate i vostri sheet come vedete qui sotto io ho colorato ognuno della mia ogni tema che vi ho raccontato l'ho colorato con un sheet tendenzialmente di default io lo faccio ogni dashboard quindi ogni sheet che fa parte di una singola dashboard gli associo uno stesso colore questo significa che se ho un workbook dove ho una grandissima carellata di sheet e con tante dashboard so già distinguere in maniera molto visiva e in maniera molto veloce quali sono gli sheet che fanno parte di una dashboard piuttosto che un'altra lo si fa in maniera molto facile tasto di testo c'è il nome dello sheet e si va a cambiare il colore questo veramente utilizzatelo perché vi aiuterà tantissimo a fare poi a capire quali sono gli sheet che state utilizzando in una dashboard piuttosto che un'altra nonché ultima cosa per chi non lo sapesse esistono questi bottoncini qui sotto che vi aiutano a comprendere meglio quale elenco degli sheet che sono presenti sia mostrando un'anteprima oppure andando a mostrare semplicemente un elenco quindi magari questa funzione la utilizzo è molto comoda soprattutto quando magari devo andare a cambiare l'ordinamento di uno sheet lo faccio qui in maniera molto più agevole piuttosto che farlo da qui che se devo portarla fino alla fine ho un po' di problemi devo essere bravo con il mouse a fare i giusti movimenti detto questo questi sono un po' i consigli che vi do su come organizzare un vostro workbook dei suggerimenti che vi esorto a farci una riflessione e magari a utilizzarne anche qualcuno sicuramente a me personalmente tutti questi schemi che mi sto dando mi stanno aiutando veramente tanto in tutti i sviluppi che faccio soprattutto in quelli che sono molto più complessi detto questo se non ci sono domande passerei insieme a Fabio alle nostre 50 sfumatori di dashboard ok grazie Davide anche perché molte delle cose che hai fatto io dico sempre di farle e poi ogni tanto quando lavoro in velocità mi dimentico e quando lavoro in un team secondo me l'hai sottolineato all'inizio non pensiamo di essere gli unici che ci mettono le mani specialmente se diamo qualcosa probabilmente potremmo ricevere qualcosa quindi se diamo qualcosa di formattato bene è facile che riceviamo a nostra volta qualcosa di formattato bene dal punto di vista del workbook quindi commenti veramente storie di vita vissuta un commento salva la vita perché nelle formuline che abbiamo visto era una divisione con un level of detail quindi tutto sommato lo capiamo ancora ma quando comincerete a vedere delle formule che non stanno diciamo nella visualizzazione nella dimensione di default ma cominciano a esplodere capirete che il commento messo da una persona sarà la vostra la vostra salvezza e in realtà c'è una domanda Fabio scusami sì ok Amagini ci chiede una differenza principale tra workbook dashboard e così via se permetti rispondo io ma certo ci mancherebbe vadi allora in realtà è molto facile un workbook non è nient'altro che quell'oggetto fisico che contiene tutta la nostra dashboard è il file che può avere due estensioni tvb o tvbx ora senza entrare nel dettaglio il tvb è semplicemente la dashboard con il puntamento ai dati il tvbx è semplicemente il dashboard con al loro interno anche i dati quindi se devo passare una dashboard a Fabio magari gli passo il tvbx di modo che ha già i dati non ha bisogno lui della connessione direttamente al database all'interno di nostro workbook esistono tre tipologie di credo che state vedendo ancora nello schermo tre tipologie di oggetti che sono lo sheet che è il singolo grafico che noi andiamo a realizzare che è un po' quello che avete visto qui per esempio abbiamo la dashboard che noi troviamo insieme di sheet più testi immagini bottoni e cose del genere che è la singola dashboard che adesso magari io e Fabio ne faremo vedere una dopodiché il tablo ci consente di fare anche le stories che sono insieme tra sheet e dashboard creiamo un percorso una stories che vogliamo raccontare andando a prendere parti del ciò che rappresenta all'interno del nostro workbook questo è un po' tecnicamente quello che ci mette a disposizione il tablo ok 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 perfetto ottimo grazie per la domanda perché effettivamente molto spesso si sente parlare di dashboard workbook worksheet ogni tool in realtà ha delle nomenclature particolari in alcuni tool senza fare nomi dashboard è qualcosa di interattivo in altri è qualcosa che non è interattivo quindi effettivamente la domanda è ottima perché a seconda del tool da cui provenite potreste avere delle nomenclature che non sempre matchano con quelle di un altro quindi bene che lo abbiamo lo abbiamo chiarito e quindi cosa facciamo facciamo vedere un po' di dashboard Davide che dici ok allora partiamo prima dall'idea che è stata con Fabio comunque abbiamo parlato tanto di cosa presentarvi quindi abbiamo costruito questo percorso insieme e ci piaceva terminare con un po' quello che per noi due è un po' un gioco un po' una sfida cioè abbiamo preso la stessa punta ai dati preso ispirazione dal Makeover Monday abbiamo detto non ci diciamo nulla ci condividiamo solo il dato e facciamo qualcosa ognuno dà la sua interpretazione e poi la discutiamo insieme nel nel tool quindi direi che parto con la mia visto che vi sto già condividendo lo schermo i dati riguardano i dati dei dati del PIL dell'America con dati che provengono dal 2001 al 2018 scusa scusa Fabio ma c'è dimmi dimmi tutto sto cercando di metterlo on full screen F7 o se no hai ragione F7 me lo scordavo ok perfetto così la vedete tutta sì vediamo tutto quindi l'idea è questa noi abbiamo i dati del del prodotto interno lordo di tutti gli strati americani con il livello di dettaglio fino alla singola fino al singolo stato che vanno dall'anno 2001 al 2018 e questa è la mia proposta che è la seguente la possibilità di andare a scegliere un anno in funzione di questi piccoli pallini che sono qui presenti di default all'entrata della dashboard vedremo sempre l'anno 2018 come vedrete qui ci dice che ci sono 51 stati che nel 2018 hanno fatto un totale del PIN di circa 18 mila miliardi la prima cosa doveva fare qui in realtà bene perfetto non ci credo no il bagno della diretta questa è bellissima ok forse funziona ma non so che cosa ha fatto comunque va bene tipico di ogni demo ci dicono quindi lavoriamo direttamente solo con l'anno 2018 l'idea mia che fino a poco fa funzionava che l'avevo provata era quella di andare a poter selezionare l'anno avremo visto quale differenza e ovviamente qui tutto si aggiorna allora dopo questo avevamo comunque le aree di provenienza dei nostri dati le stesse aree che vedete qui colorate per intensità di prodotto interno lordo all'interno della mappa quindi abbiamo il far west il il far west il rock mountain e così via le stelle indicano ho preso spunto qui dalla bandiera americana quindi le stelle indicano i 51 stati dell'america i bar vanno a dirmi sostanzialmente quant'è stato il loro pill nell'anno selezionato con il confronto nel trend nel trend però se voglio entrare più nel dettaglio oltre a vedere la mappa ho messo una vizion tooltip con il dettaglio del trend negli anni dove ho riportato il dato della recessione del 2009 questo perché semplicemente sono andato a notare che ogni stato ma in realtà tutti i dati hanno subito un grande picco in discesa nell'anno 2009 proprio perché c'è stata la grande recessione pensando sempre al dashboard scopo molto di navigazione quindi non vedendola come infografica prendendo spunto dalle diverse tipologie di dashboard presentate da Fabio quello che funziona sicuramente è fare una action quindi per andare a vedere l'area geografica andiamo a vedere il singolo stato quindi possiamo parlare nel nostro caso che ho selezionato il Fort West l'Alaska la California il Nevada l'Oregon e Washington anche qui ho messo la vizion tooltip che ci mostra comunque l'andamento l'andamento del prodotto interno lordo per esempio vediamo che nel Nevada oltre alla recessione del 2009 c'è stato comunque un altro picco nel 2012 2013 in decrescita poi comunque è ritornato i suoi degli ottimi valori mentre per esempio la California a parte l'anno della grande recessione non ha comunque un PIL in crescita vediamo come e anche qui sceso ancora una volta nel dettaglio vediamo come ogni singolo stato mi sta funzionando adesso ogni singolo stato ha il suo prodotto interno lordo questa è un po' la mia idea di dashboard che ho sviluppato pensando un po' a come rappresentarla a come rappresentarla e vabbè per me non mi sta andando sono di problemi della diretta però credo che l'idea sia abbastanza chiara quindi giocando un po' sui container anche per triggerare le azioni andare sempre più a fondo nel livello di dettaglio come ci siamo detti anche prima esatto quindi lascio fare la fabbia a te per presentarla e vi condivido lo schermo un attimo sullo share screen ok ditemi se vedete vedete? sì perfetto io vabbè premessa ho tolto l'Alaska perché l'Alaska e l'Hawai di solito le metto come sheet a parte ma ovviamente per ragioni di spazio tolgono sempre un po' di un po' di enfasi ai 50 Stati Uniti quelli tradizionali però fondamentalmente l'idea era anche dal mio punto di vista vedere in questo caso declinandoli con i colori quali erano le tre le sette macro le otto macro regioni sì e volevo avere un andamento temporale che mi facesse vedere complessivamente come era stata l'evoluzione nei 18 anni censiti e quindi ho utilizzato un bar chart qua sulla sinistra per vedere come si era distribuita la crescita o l'eventuale flessione del GDP e chiaramente sotto ho fatto una rappresentazione per Contè che di questi tempi sarà molto familiare ovviamente qua il puntino il cerchio rappresenta la dimensione del GDP e poi oltre a una serie di KPI per vedere i valori complessivi il numero di Contè e il valore minimo e il valore massimo con anche riferimento di quali fossero le Contè che in un determinato periodo avevano il valore minimo e il valore massimo ero interessato a vedere da un altro punto di vista sempre utilizzando dei pallini come si distribuissero le Contè sulla base dei raggruppamenti per regioni perché per esempio mi ero accorto che i gialli che sono appunto il South West benché siano complessivamente il quinto valore rispetto a questi altri quattro che sono decisamente più alti in un'ipotetica top ten per le Contè in realtà ce ne sarei attenzione mi è si è aggiornato ma allora è il giorno del bello della diretta ce ne sono comunque tre nelle prime dieci e quindi con questo tipo di rappresentazione avevo un impatto più analitico su quali sono le Contè che fanno di più quali sono le Contè che fanno di più anch'io con grande fantasia nella Viz in Tooltip per ogni singola Contè faccio vedere appunto regione, stato di appartenenza e l'andamento nel tempo siccome Davide parlava appunto delle interazioni delle action che ci sono tra uno e l'altro anch'io ho fatto la mia proposta nel senso che se ad esempio ci concentriamo sull'anno di cui parlava Davide del 2009 quello dove c'è stato un po' di recessione utilizzando questo filtro dovreste aver visto dei piccoli scostamenti nei valori utilizzando anche le animation proviamo a vedere se sono un po' più evidenti con il 2001 sulla destra dovreste vedere che le barre si alzano si abbassano così come i singoli valori e vedete che anche qua sono cambiati anche i valori delle diciture delle singole Contè quindi l'idea in realtà è molto molto semplice siccome avevamo il dettaglio geografico senza andare troppo nel dettaglio quindi passando da stato a Contea io ho preferito giocare con un'idea di focus quindi per esempio nel Southeast cioè i rossi dove ci sono tantissime Contea forse per motivi di popolazione o quant'altro io posso anche cliccare su questa barra per scatenare un highlight o per meglio dire un focus di tipo filtro in modo da poter vedere un po' più nel dettaglio quelle che sono le Contea che sia qua che qua con la visualizzazione standard vedevo un po' più fit perché avevo un livello di dettaglio ovviamente su tutto il sistema paese e che quindi in un certo senso ci dà l'idea di alto livello ma non il dettaglio per esempio anche la California che risulta essere la seconda classificata allo stesso modo io posso continuare a vedere quali sono i valori delle singole Contea e nulla mi vieta di continuare a iterare anche il discorso dei filtri ad esempio questa è la situazione della California nel 2001 i valori che vedete cambiare sono appunto riferiti in questo caso solamente alla zona Far West solamente all'anno 2001 e vedete appunto quali sono i valori quindi questo maximum Los Angeles County è ovviamente questo valore qui il minimo qua sarebbe una bella gara andarlo a trovare e proprio perché ci sono tante Contea mi sembrava giusto oltre che far vedere quanto poco era stato il valore minimo anche avere l'indicazione di quale sia la Contea che ha contribuito in maniera minore su tutti questi dati quindi diciamo due punti di vista differenti per due tipi di analisi potenzialmente sovrapponibili o dedicate persone con spunti di riflessione diversi e io direi che con questa Davide dovremmo essere arrivati alle 19.01 quindi con un tempismo praticamente impeccabile alla fine di quello che è il primo il nostro primo appuntamento e come ci lasciamo ti rubo un attimo lo schermo Fabio vai 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 Davide prendi pure giusto per allora come avete visto con Fabio abbiamo realizzato abbiamo realizzato questa questo riorento ci abbiamo messo tanto del nostro e siamo veramente contenti anche io soprattutto del fatto che ci sono stati comunque tanti partecipanti questa slide è giusto per ricordarvi un po' quali sono i nostri canali dove potete trovarci venite soprattutto cercare di iscrivervi entrambi perché nella community di Tableau sicuramente è più facile essere aggiornati sugli eventi vi iscrivete vi arriva direttamente la mail così via ma vorremmo comunque utilizzare tantissimo la pagina LinkedIn per cercare di creare sempre più collegamento tra di noi anche in vista del prossimo evento dove vorremmo ingaggiare qualcuno di voi direttamente quindi veramente iscrivetevi e iniziamo a collaborare perché il risultato un buon risultato di una di una community è quando la community stessa mettersi in gioco noi lo facciamo per primo noi cercheremo di comunque di facilitare che questo avvenga che è una cosa che io già faccio per quanto riguarda la community di Roma e Fabio dovremmo lasciarvi con l'idea che già abbiamo un po' preventivato per il prossimo evento sì assolutamente infatti un po' come abbiamo fatto in questo caso io e Davide non ci dispiacerebbe se a voi facesse piacere chiaramente perché come si diceva prima vorremmo che fosse un qualcosa che costruiamo insieme non un qualcosa che io e Davide decidiamo cioè qua stiamo in una democrazia al cento per cento quindi se potesse essere interessante per voi e vi voleste cimentare sarebbe nostra intenzione individuare una base dati praticamente fare il makeover monday per capirci in salsa Tableau User Group di Bologna quindi io e Davide ci preoccuperemo di trovare una base dati che tutto sommato ci risulti interessante e poi ve la vorremmo condividere nei canali di cui vi accennava Davide quindi anche o anche su entrambi perché se per qualche motivo non avete LinkedIn ma magari volete rimanere collegati sulla piattaforma di Tableau non c'è problema e lo spirito sarebbe quello di cercare di avere una base dati e la prossima volta che ci vediamo se vi fa piacere mostrarci quello che avete fatto anche con dove vi siete fermati qualcosa che vorreste fare meglio oppure banalmente anche avere che ne so dei feedback potremmo fare anche dei dei gruppi di lavoro magari per avere dei feedback a modo di gruppo cioè un qualcosa su cui possiamo ascoltare tutti i vostri suggerimenti che ci volete dare ovviamente l'idea non è solamente quella di commentare i lavori di tutti perché ci piacerebbe darvi anche dei contenuti contenuti tematici che magari vi possono aiutare dopo questa prima parte chiamiamola teorica che vi abbiamo fatto vedere io lato dashboard Davide lato best practice per quanto riguarda il workbook proprio per metterle in atto quindi vorremmo cercare di bilanciare le due cose quindi qualunque tipo di spunto è il benvenuto proprio per farlo come ha detto Davide più vi iscrivete cioè più riusciamo a creare gruppo più rimaniamo in contatto e quindi riusciamo a sentirci anche banalmente per dirvi ragazzi avremo identificato la base dati quindi non so il prossimo Tableau User Group di Bologna magari sarà tra uno due mesi quello che è abbiamo un tempo sufficiente per identificarla lavorarci un po' raffinarla fare critica costruttiva adottare le best practice e quindi produrre qualcosa che sarà all'inizio del prossimo Tableau User Group questa era un po' l'idea che volevamo comunicarvi vedo già che arrivano dei commenti quindi bene se vi fa piacere siamo contenti esatto ciò non toglie che potreste essere anche voi suggerirci una base dati non è che deve essere creata dall'alto da noi soprattutto posso immaginare il comune di Bologna ora è un'idea che mi è venuta così in mente il comune di Bologna ha talmente tanti dati che sono pubblici potremmo giocarci un po' a tutti quanti dalla regia ci chiedono se Davide il Tug di Bologna sarà anche su Slack attualmente ancora no anche perché vi dico che per esperienza personale su Roma funziona molto molto poco quindi non lo so magari se nasce da una buona parte della comunità la necessità che ci sia Slack poi possiamo crearlo attualmente non lo so non ne vediamo la necessità di aprire un canale Slack per noi diciamo che il nostro focus per ora è LinkedIn sì perché diciamo Slack è una di quelle cose che chi la usa la usa un sacco e chi non la usa non sa neanche che cos'è in primi SEO anche nell'organizzazione dello user group grazie a Tableau abbiamo una serie di strumenti tra cui Slack io non ce l'ho installato lo utilizzo via web non ho abilitato le notifiche per una serie di motivi quindi proveremo a partire dal user group di LinkedIn poi anche lì fateci tanto anche i contatti ho visto che già qualcuno mi ha chiesto il contatto su LinkedIn quindi anche direttamente a me o a Davide sentitevi veramente liberi di contattarci come più vi viene comodo chiaro che nel user group su LinkedIn tutti vediamo tutto quindi utilizzeremo utilizzeremo questo esatto infatti vediamo che Laura ci dà dei feedback su Slack quindi effettivamente già lo utilizzavi su vari canali tu probabilmente sei uno di quegli utenti che lo usa parecchio ed effettivamente se diventasse un un tratto distintivo di tutti noi probabilmente switchiamo direttamente su quello ne faremmo un discorso di organicità vediamo un attimo come andiamo avanti senza imporre nulla dall'alto se qualcuno ha anche vista l'ora per non portarvi via ulteriore tempo non so se avete qualche commento qualche domanda aggiuntiva io tanto e Davide non scappiamo quindi scriveteci pure diversamente sarà perché è il mio primo user group forse Davide è già più navigato è stato veramente fighissimo cioè me lo immaginavo esattamente così molto molto alla mano incidenti di percorso cose che non vanno refresh che partono all'improvviso Davide che è crashato il wifi è andato via però siamo qua e quindi ce la stiamo raccontando io sono proprio contento e vi ringrazio veramente spero di ritrovarvi tutti e magari trovare anche vostre conoscenze a cui magari passate voce quindi grazie ancora beh il logo è stato forse la cosa di cui andiamo più fieri idee nate su Whatsapp in una telefonata buttando le idee credit però credo a un collega di Davide se non ricordo male giusto cioè quella realizzazione grafica è stata fatta da è stata fatta da un'azienda ok da una collega un collega non lo so però diciamo noi siamo i mandanti va bene va bene dai se non ci sono domande ci vi liberiamo e ci liberiamo grazie ancora per essere stati partecipi per essere in tanti ripeto vi aspettiamo veramente su LinkedIn di modo da da coltivare sempre più questo strumento che la community che Tablo ci crede molto ma ci crediamo molto anche noi altrimenti non saremo qui oggi userò i commenti nelle formule dice Fabrizio vedi ha già fatto presa esatto la prossima volta vi chiederemo di farci vedere il workbook per vedere se ce lo state raccontando oppure se lo state veramente facendo va bene allora niente Davide chiudiamo con un saluto e speriamo alla prossima di vederci ciao a tutti state ciao state bene ciao